Allora, ciao a tutti, vi lascio un piccolo messaggio, se vi piace vedere come elaborare un'immagine planetaria tipo come questa che vedete di Marte, quindi ottenere dei risultati belli, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete tanti bei like, se ricevo tanti iscrizioni e tanti like, sabato vi farò vedere in live come, come, che cosa, come elaborare un'immagine planetaria, ciao!